Diamo un po' un'occhiata a questi menu. Allora, abbiamo il primo di menu, che è quello del temporizzato, che si suddivide in Video Time Warp, Video Temporizzato, Foto Temporizzata e Notturna Temporizzata. Poi, all'interno del Time Warp abbiamo 4K oppure 1080, 16 noni oppure 4 terzi con 2, 7 e 1,4. Abbiamo un campo di vista, che in questo caso rimane solo ed esclusivamente l'ampio, e abbiamo la velocità, che è per 2, per 5, per 10, per 15 e per 30. Ci spostiamo in video. In video abbiamo video e registrazione in loop. Abbiamo la possibilità di fare dei video dedicati di pochi secondi per i social. E all'interno del menu, qui sottostante, abbiamo le risoluzioni, abbiamo i field of view, abbiamo le stabilizzazioni, che possono essere automatiche o disabilitate. Quindi l'hypersmooth si attiva e si disattiva qui. Abbiamo il ProToon, in questo caso è on, con tutte le sue classiche impostazioni. Nel reparto fotografico invece abbiamo La possibilità di andare a impostare un timer di autoscatto. La possibilità di scegliere foto, sequenza o notturna. La possibilità di scegliere il field of view, l'HDR, che in questo caso andiamo a disattivare il superfoto, appunto. La possibilità di utilizzare anche il RAW, quindi di fare fotografie in RAW, e come al solito il nostro ProTune. Abbiamo anche la possibilità di zoomare, ma non quando abbiamo il ProTune, il RAW, scusatemi, acceso. Il menu delle impostazioni invece si suddivide in comandi vocali, audio della telecamera, Quick Capture per utilizzare il pulsante sopra per far partire la registrazione anche a telecamera spenta, e lo sblocco. Qui sopra la geolocalizzazione, il collegamento con il telefonino, se utilizziamo il telefono per fare le dirette live Facebook, e il Cloud. Sotto le preferenze troviamo le classiche connessioni, generale, controllo vocale, touchscreen, regionale, dove potremo scegliere se registrare in PAL o in MTSC, gli ingressi e le uscite, le informazioni e le reimpostazioni di fabbrica. Così abbiamo visto anche questa interessante nuova grafica e menu della GoPro Hero 7 Black Edition. Così abbiamo visto anche questa nuova grafica per la visione di QTSS, e abbiamo visto anche questa nuova grafica per la visione di QTSS. Così abbiamo visto anche questa nuova grafica per la visione di QTSS.